Un posto ieri, un video messaggio oggi, Cateno De Luca torna a parlare di dimissioni, questa volta però dimissioni finalizzate a nuove elezioni per ottenere o almeno per tentare di ottenere la maggioranza in Consiglio Comunale, pomo della discordia alla delibera con cui l'amministrazione comunale certifica il disimpegno dalla fondazione Tao Arte, secondo il sindaco e l'aggiunta il comune di Messina non ha alcun vantaggio dalla permanenza nella fondazione, deve pagare lo scotto di 3 milioni di euro di debiti, non è giusto tenere sotto scopa la città, scrive De Luca, oggi ho dovuto prendere atto che in Consiglio Comunale non ci sono le condizioni per poter attuare il nostro programma amministrativo votato dal 68% dei messinesi, condurrò la mia azione amministrativa fino a dicembre prossimo senza alcuna esitazione, pretendendo il rispetto delle norme regolamentari per l'esame in Consiglio Comunale delle delibere proposte dalla giunta, purtroppo, dice De Luca, non ho avuto il mandato pieno per amministrare Messina, perché non ho una maggioranza in Consiglio Comunale che sostiene il programma del sindaco scelto dalla città il 26 giugno, a differenza di altri amministratori, io non sono disponibile ad amministrare con il freno a mano o dovendo cercare continui compromessi, che mortificano l'interesse collettivo, affido la città alla Madonna di Montalto che ho avuto la possibilità di venerare.